con vincenzo lisi al termine della tuta del mercoledì vincenzo inizia la lascia finale sì diciamo che dopo un intero campionato arriviamo adesso alla fase finale con la forza più importante dove cercheremo di dare tutto noi stessi per per raggiungere posizione più alta possibile una stagione più che positiva per te tre gol all'attivo e due assist nell'ultima gara di campionato come stai vivendo questo buon momento sono molto contento di poter dare una mano alla squadra anche con qualche assist mi sento molto bene spero di poter dare ancora di più una mano alla squadra in questo finale di stagione domenica c'è il monte giorgio alla riviera che gara ti aspetti ma niente sarà una gara difficile come tutte le altre perché comunque in questo campionato hanno mostrato tutte le squadre di essere più o meno lo stesso livello e non è mai facile contro nessuna squadra quindi sarà la solita partita dove dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria a